Siamo appena arrivati all'evento Aperti per voi nella chiesa di San Fedele nel cuore di Milano perché infatti siamo dietro il Duomo e appunto come potete vedere alle mie spalle siamo all'interno della chiesa San Fedele con Bruno Gervasoni che è un volontario del Touring Club. Voi siete famosissimi ma comunque spiegateci, ricordateci chi siete e che cosa fa la vostra realtà. Sì, noi siamo soci volontari del Touring Club, si chiama Aperti per voi e cioè teniamo aperto diversi siti in Milano dove sarebbero chiusi o parzialmente chiusi e questo per cercare di valorizzare i luoghi storici da arte e tenerli aperti perché siano usufruibili al pubblico e quindi a tutti quelli che vogliono visitare questi siti, questi posti dove sarebbero o parzialmente chiusi appunto o chiusi del tutto. Ok, quali altri luoghi sono aperti durante la Civil Week ma anche durante tutto l'anno perché voi comunque collaborate, cioè svolgete iniziative tutto l'anno? Sì, esatto, noi teniamo aperti questi posti tutto l'anno, tutti i giorni dell'anno e i posti attualmente aperti sono 13 in Milano prima del Covid però parliamo ormai, il mondo si è ribattato nel frattempo, erano 18, adesso siamo 13 e aperti non tutti i giorni come prima ma pian pianino pare che le cose stiano un po' riprendendo sperando che poi anche il Covid finisca o non sia più così pericoloso. È il primo anno che partecipate all'interno della Civil Week o avete già partecipato? No, abbiamo già partecipato, se ricordo bene, un'altra volta, quindi non è il primissimo anno. Ok, e perché è importante questo evento, queste iniziative per la città di Milano e per tutti i cittadini? Perché questo può contribuire ulteriormente a dare un'ulteriore spinta per la conoscenza di questi luoghi, questi luoghi d'arte, religiosi, storici, dove passa anche in questi luoghi la storia di Milano. C'è qualche curiosità su questa chiesa da sapere che vuole condividere con noi? Sì, ci sono diverse curiosità, aneddoti. Qui, ad esempio, ci troviamo di fronte alla Tarca, in ricordo di Alessandro Manzoni, perché questa chiesa veniva chiamata anche la chiesa di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, che abitava qui vicinissimo, veniva tutte le mattine nella seconda parte della sua vita, che diventa una persona devota, veniva tutte le mattine a messa e tutte le mattine faceva la comunione. E questo purtroppo è diventato anche la causa del suo decesso. Sandro Manzoni, il 6 gennaio del 1773, uscendo di chiesa, dopo aver fatto la comunione, cade, scivola sulla scalinata fuori e morirà a seguito di questa caduta il 22 maggio del 1783. E questa è una Tarca, appunto, che ricorda l'ultima comunione di Alessandro Manzoni. Sì, infatti c'è anche la statua proprio qui di fronte alla chiesa. Sì, la statua viene fatta dieci anni dopo, nel primo decennale, a ricordo della scomparsa di Alessandro Manzoni, e quindi 1783, Francesco Barzaghi è l'autore, lo scultore della statua. Grazie mille, ti ringrazio per la disponibilità e vi invitiamo a scoprire tutte queste opere culturali che ci sono nella città di Milano e noi ci vediamo al prossimo evento.